Al Consiglio Comunale di Casnigo, svoltosi ieri sera, la polemica politica si è incattivita e la dialettica ha ceduto il passo alle carte bollate. La comunicazione all'Assemblea del Sindaco Giuseppe Inverti circa la nomina ad Assessore Esterno di Duglio Ruggeri, dimessosi da tutte le cariche istituzionali non più tardi di due mesi fa, a seguito della petizione contro la ventilata costruzione di una centrale a biogas, sottoscritta da 1.600 cittadini e reintegrato ora nelle sue funzioni, sia pure con un diverso profilo giuridico, ha scatenato la reazione della minoranza insieme per il futuro di Casnigo, il cui capogruppo Alberto Bettinaglio ha letto una dichiarazione piuttosto dura nei confronti del Sindaco e della maggioranza, stigmatizzando il fatto che l'ex consigliere e neoassessore accettando di rientrare a far parte dell'esecutivo su esplicita richiesta del Sindaco ha dimostrato scarsa coerenza, il gruppo di minoranza ha abbandonato l'aula perché, testuali parole, non intende rendersi partecipe di questa gioppinata. Immediata è scattata la reazione del Sindaco che, seduta stante, ha annunciato querela penale per i cinque firmatari del documento, ritenuto offensivo e diffamatorio. Si è praticamente concluso qui, con un colpo di scena, la seduta fino ad allora svoltasi tranquillamente. Dopo l'abbandono dall'aula da parte dell'opposizione, c'è stato appena il tempo di dare lettura di uno scambio epistolare intercorso tra un cittadino e uno dei promotori della petizione contro la centrale a biogas, che tra l'altro è stata oggetto anche di un'assemblea pubblica tenutasi il 19 maggio scorso. Il cittadino aveva lamentato di aver trovato tra i sottoscrittori della petizione popolare il suo nome, inserito nell'elenco a sua insaputa. La destinataria della lettera gli ha risposto che trattandosi di una raccolta di firme per fini non istituzionali non era soggetta ad alcuna specifica regolamentazione giuridica, ipotizzando che nel caso specifico probabilmente un familiare aveva firmato al posto suo e invitando il suo interlocutore a chiedere al sindaco la cancellazione della sua firma. Non si è fatta attendere la replica del cittadino che si è detto sorpreso per il tenore della risposta, chiedendosi quante altre firme sono state raccolte nello stesso modo e sollevando così dubbi sulla validità della consultazione.